Roma Experience è anche questo. Roma, il paesaggio, la luce, i suoni. Ogni fine settimana vieni con noi a nutrire la tua anima, ma anche l'anima dei tuoi amici o dei tuoi familiari. Roma è un'esperienza multietnica, multisensoriale, quindi i percorsi sono pensati, sono anche proposti ogni volta in contesti diversi. Multietnica perché visiteremo luoghi multietnici, è in programma per esempio la Moschea di Roma che non tutti sanno è la più grande d'Europa e su questo tema del più grande d'Europa non tutti sanno che Roma ospita il più grande d'Europa di molte cose. Il più antico ospedale ad esempio d'Europa che è il Santo Spirito. Visiteremo Roma e le tante Rome, quindi andremo in Giappone, andremo in Francia, andremo in Irlanda perché qui vicino c'è Villa Medici. Villa Medici è suolo francese, Giappone, istituto giapponese di cultura giapponese tra i più antichi in Europa. Quindi in qualche modo è una possibilità che abbiamo di viaggiare nel mondo pur stando qui perché questo è Roma, nasce come multiculturalità. I percorsi sono pensati per ogni età. Rome Experience è innanzitutto esperienza cioè immersione nei luoghi, provare a sentire cosa i luoghi hanno da dirci. Si va a piedi in modo lento, con tempi lenti condivisi cioè io condivido con l'altro quello che sto provando, quello che sto vedendo e quindi è un'esplorazione ogni volta diversa, ogni volta anche quindi una scoperta. Questa è l'intenzione di Rome Experience, quello di far vedere con occhi nuovi una Roma diversa. Quindi Roma Experience ce n'è per tutti i gusti e non ci sono scuse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.